Buongiorno a tutti, oggi siamo agli Palmenti, uno dei nostri ultimi lavori realizzati giù nei sassi a Matera. Guardate che bel locale, è uno spettacolo, guardate, guardate. Qui abbiamo curato tutta la parte illuminotecnica, la parte di distribuzione della forza motrice, guardate che bel locale, io vi invito a visitarlo perché davvero qui c'è l'eccellenza, sia nel locale, sia nella Matera, sia nel Cibo, sia nella Dirigence che ha voluto questo tipo di locale realizzato e curato in un certo modo. Qui c'è la parte della cucina, guardate che spettacolo che è. Qui c'è la parte della cucina rigorosamente a vista, qui c'è tutta la parte della sala, della prima sala, sono tre sale, una di seguito all'altra e scendono in una grotta. Qui la parte della vineria, guardate che spettacolo. Tutta la parte illuminotecnica, delle luci senza toccare le pareti rigorosamente lasciate nello stato in cui sono state trovate, andando a rispettare il luogo, andando a rispettare la storia. Ecco, vi porto con me nell'ultima sala. Qui sono stati realizzati tutti gli impianti, dalla wifi ai sistemi di bioserveglianza, sicurezza, e quindi venendo in questo bellissimo luogo potrete continuare a utilizzare i vostri dispositivi, device e utilizzare quindi tutte le tecnologie di cui oggi purtroppo non possiamo più fare a meno. Ottimo lavoro, ottimo lavoro al team Ineltech e alla squadra che ci ha lavorato. Guardate che spettacolo. Un saluto da Matera, un altro lavoro portato a termine con eccellenza. Sono davvero soddisfatto dell'attività realizzata. Guardate. Altri titolari, un'altra azienda contenta del nostro lavoro. Continuiamo così. Buon lavoro a tutti, buona giornata.